Sottosegretario, gli italiani sono tra i più bravi a scrivere libri per ragazzi e a disegnarli. Credo che sia un orgoglio per il nostro paese. Sì, è un orgoglio, peccato che non siamo tra i più bravi a leggerli. Allora, io credo che un paese in cui non si legga sia un paese destinato all'ignoranza e in fondo anche a una forma di inciviltà. Quindi importantissima questa iniziativa perché accende un enorme faro non solo sulla produzione di libri per ragazzi ma sulla necessità che tutti gli sforzi delle famiglie, delle istituzioni e della scuola convergano verso la lettura. Non c'è un'alchimia, un segreto per far leggere di più le persone? Non esiste? No, esiste. Bisogna incuriosirli. Leggere un libro è un piacere immenso. È una gioia straordinaria ed è un arricchimento straordinario. Certo, non si può leggere Guerra e Pace su Wikipedia. Bisogna leggerlo.